Ciao, io sono Martina, sono uno dei titolari della Bottega del Pesce e dal nome appunto si capisce che trattiamo solo ed esclusivamente pesce. Siamo sia pescheria che ristorante, la pescheria tratta pesce fresco, crudo, ma anche cose cotte, quindi gastronomia, dove si possono trovare sughi pronti, secondi da mangiare caldi, filetti già cotti. Si può venire qua, si può ordinare sia tramite telefono ma anche personalmente. Il ristorante invece è un po' più complicato perché appunto ci sono piatti un po' più studiati, con abbinamenti più particolari, con ingredienti più particolari. Una delle nostre soddisfazioni è appunto vedere che gente non solo del paese viene a fare spesa da noi ma anche a mangiare e quindi questo ci fa capire che siamo sulla buona strada, che comunque stiamo facendo bene il nostro lavoro.